Eccoci, siete pronti perché vi porterò con me in un viaggio, un viaggio attraverso il programma più amato degli anni 90, della storia, della televisione naturalmente. Un viaggio allegro, interessante, piccante, perché ci saranno un po' di petteguè, che non faremo da soli, ma con, per poco, qui a Vita da Copertino.